intanto buona giornata a tutti ringrazio tutti gli operatori delle tv e dei media che si sono messi a disposizione perché potesse giungere nelle case della nostra gente un messaggio di saluto del vescovo in occasione del santo natale ecco il messaggio che voglio portare un messaggio di speranza sant'agostino dice che il natale si può vivere in due modi nel ricordo e nel mistero il natale si vive nel ricordo quando si vive la ricorrenza natalizia semplicemente come ricordo di un fatto del passato richiamando alla memoria un evento che comunque ha segnato la storia dell'umanità e questo è già una cosa importante ma c'è un secondo modo di vivere il natale che è nella prospettiva del mistero e si vive il natale del mistero quando quello che si è realizzato nel grembo della vergine maria cioè l'umanazione del verbo l'incarnazione del verbo si compie anche oggi nella vita delle persone e quindi noi vivremo un santo natale nel mistero nella misura in cui il signore gesù sarà accolto nelle nostre vite nelle nostre vite famiglie personali familiari nelle nostre comunità nelle nostre associazioni nelle nostre città l'augurio che io faccio è che questo natale sia un natale vissuto nel mistero certo questo natale porta i segni di una situazione drammatica quella della pandemia che stiamo vivendo una situazione che probabilmente comprenderemo solo nei mesi futuri però la portata antropologica dell'evento che stiamo vivendo è io penso che la pandemia abbia spazzato tante certezze che hanno sostenuto le vite le convinzioni degli uomini e delle generazioni che ci hanno preceduto penso che quando questa brutta stagione sarà finita dovremmo rileggere sapientemente quello che è accaduto per costruire un futuro migliore tuttavia io ritengo che proprio questo momento di crisi sia una grande opportunità perché forse quest'anno il natale sarà meno scintillante ma più luminoso meno scintillante perché le risorse economiche che abbiamo sono di meno le possibilità di spostamento le possibilità di acquistare questo quell'altra cosa forse non si realizzeranno come tutti gli altri anni sarà meno scintillante ma forse più luminoso perché la pandemia ha posto a noi grandi questioni di senso c'è un bisogno di significato c'è una richiesta una ricerca di luce e io penso che quando ci si accosta al mistero dell'incarnazione come persone che sono mendicanti di luce e mendicanti di senso come i pastori come i magi quando si giunge davanti al mistero dell'incarnazione con una fame una sete di significato e di luce si può scoprire la verità di quello che è accaduto a betlemme quello che è accaduto per la storia dell'umanità nel grembo di maria è generato il nostro salvatore con la sua nascita è germinata la speranza perché dal mistero dell'incarnazione abbiamo capito quanto dio ci ama e l'amore di dio che si è manifestato nell'incarnazione fonda la nostra speranza anche dal punto di vista umano qual è il fondamento della speranza e l'amore solo l'amore ci consente di guardare con positività il futuro il natale ci dà proprio questa è una grande prova d'amore di dio che per amore nostro si è fatto uno di noi si è abbassato per diventare uno di noi e quindi noi abbiamo la consapevolezza di essere amati e abbiamo la consapevolezza che dal mistero dell'incarnazione poi dio si è fatto compagno di strada dell'umanità certo questo non risolve i problemi economici sociali perché no anche politici che stiamo vivendo però ci dà la luce e la forza per affrontarlo quindi io mi sento di augurare a tutti un natale come festa di germinazione di una nuova speranza dobbiamo vivere questo tempo come un tempo di incubazione del futuro perché da questa situazione che stiamo vivendo si può costruire una nuova umanità e la comunità cristiana anch'essa deve rivedere se stessa il suo rapporto con il mondo dobbiamo fare un'azione di riflessività che riguarda tutti gli uomini io penso che due atteggiamenti sarebbero sbagliati innanzi al natale come festa della speranza innanzitutto penso che sarebbe sbagliato cadere nella disperazione la disperazione è l'atteggiamento di chi giunge a pensare che gli uomini sono soli sono abbandonati non c'è salvezza non c'è dio non c'è futuro la disperazione è sterile sarebbe altrettanto sbagliato però la presunzione di chi dice i problemi li dobbiamo risolvere da soli senza la grazia di dio anche questa stagione della storia dell'umanità non potrà portare soluzioni non potrà apportare quella creatività che è necessaria per il superamento quindi mettiamo da parte la disperazione che porta a perdere il gusto della vita mettiamo da parte la presunzione l'idea malsana di poterci salvare con le nostre forze e apriamo il cuore alla speranza quella che è germinata nel grembo di maria che è stata seminata nella storia dal signore nostro gesù un natale come festa di rinascita nella speranza questo con gioia mi sento di augurare a tutta la nostra gente a tutto il nostro popolo a tutta la nostra comunità grazie eppure si sta parlando tanto di questo natale di semplicità ma forse nel suo significato più intrinseco anche se vogliamo scontato gesù si fece trovare insomma da dei pastori con la compagnia e il fiato di un vuo e dell'asinello cioè non si è fatto trovare da ceti alti eppure è stato è nato in una in una stalla improvvisata quasi un reietto effettivamente il mistero dell'incarnazione ha manifestato lo sguardo di dio sulla storia per dio e le persone i vip le persone veramente importanti sono i pastori sono maria di nazareth giuseppe le persone semplici che hanno conservato quella povertà di cuore che gli ha permesso di riconoscere in gesù la salvezza della vita quindi il natale porta dentro di sé la logica del magnificato questo bellissimo canto di maria in cui si vede con chiarezza il punto di vista di dio nella storia l'evangelista luca ha cura di descrivere la nascita di gesù in un contesto politico in cui c'è un imperatore c'è una struttura politica che governa il mondo conosciuto di allora però gesù non è andato né dall'imperatore nei grandi uomini i grandi capi militari gesù è nato in mezzo ai veri vip che sono le persone semplici con una vita sobria che li permette di conservare quella sensibilità nei confronti del mistero quindi la sobrietà è in qualche modo uno stile che dio ha scelto ma nello stesso tempo anche una condizione che permette di riconoscere il passaggio di dio nella propria vita forse la sobrietà a cui siamo costretti da quella da questa situazione di in genera in noi quella sensibilità spirituale sulla libertà che ci permette di riconoscere il vero senso del mistero del natale di riconoscere il vero senso del 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 senso del